Ma tu lo sapevi che gli hard disk hanno una vera e propria data di scadenza? Ed è un parametro nascosto che non tutti conoscono! Cioè immagina un giorno stai utilizzando il tuo computer e da un momento all'altro perdi tutti i tuoi documenti, tutti i tuoi giochi e tutti quanti i tuoi file così senza un'apparente ragione. A causa di questo problema, un sacco di computer sono lenti, i giochi vi laggano ed è una delle principali cause delle temutissime schermate blu della morte. Questo parametro maledetto si chiama TBW e se vuoi evitare di perdere potenzialmente tutto, ti consiglio di verificarlo adesso. Che dici, lo facciamo un controllino? Aspetto sul mio canale YouTube. Cerca questa copertina, il canale si chiama Enfire. Lì trovi il video completo e un tutorial molto breve su come capire se i tuoi dischi sono a rischio. Ma tu, hai mai avuto una schermata blu della morte? Raccontamelo nei commenti che sono curioso.